Boom di visitatori in Campania per il lungo ponte di Ogni Santi, un giro d'affari che solo a Napoli frutterebbe 26 milioni di euro, secondo le stime di confessercenti Campania. In particolare l'incasso sarebbe così suddiviso, 13 milioni e mezzo le attività ricettive, 11 milioni e 200 mila ristoranti e bar, circa 2 milioni le attività artigianali e il commercio. In effetti Napoli così piena di turisti non si vedeva neanche prima della pandemia. Vincenzo Schiavo, presidente di confessercenti Campania, parla di un'occupazione quasi totale delle camere degli alberghi e dei bed and breakfast. Un grande giro d'affari che parte da Napoli e che trascina la Campania e non solo. Riviera di Chiaia, Via Partenope, Piazza Municipio, Centro Storico sono le zone più battute dai turisti. Sempre secondo confessercenti, quasi il 43% di coloro che hanno soggiornato in città pensano di tornarci prima della fine dell'anno. O perché non sono riusciti a vedere le tante bellezze culturali e naturalistiche che la città propone, o perché si sono trovati molto bene. Capita spesso di incontrare turisti che hanno scelto per la seconda o terza volta di visitare Napoli. Si prevede già il pienone per l'Immacolata e poi per le vacanze di Natale. Restano purtroppo sullo sfondo le criticità nei trasporti e nella pulizia delle strade, che restituiscono un'immagine della città che non piace ai turisti e agli stessi napoletani. Grazie. Grazie.